In occasione della quinta edizione di Beer Attraction, la fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, Warsteiner Italia ha presentato un'idea innovativa, il Warsteiner Concert Pub. Si tratta di un vero e proprio pub realizzato da Rosario Orlando, architetto con una forte specializzazione nel canale Orica e lunga esperienza nella progettazione di pub. Warsteiner Concert Pub è un concetto che abbiamo lanciato qui al Beer Attraction ed è un'idea di un connubio tra food, birra e design. L'idea è quella di offrire un servizio, innanzitutto una birra di alta qualità e premium come Warsteiner e la sua gamma di prodotti bavaresi, ma accanto a questo c'è la possibilità da parte nostra di offrire un servizio ai gestori dei locali attraverso l'operato di un architetto che lavora con noi. Qui presentiamo un pub che è un concetto che noi abbiamo di eleganza, che è uno dei valori della nostra marca, ma molto funzionale, così come l'abbonamento food e bevande e birra, che è un trade molto importante in questo momento storico. Abbiamo incominciato una collaborazione con BBQ GIC, che c'è la possibilità con degli chef di fare delle ricettazioni semplici, con una cucina tradizionale si può fare un abbinamento interessante tra cibo e birra, carne e birra, barbecue in modo particolare e grilling, pur non avendo a disposizione gli strumenti del barbecue e grilling, ma gli strumenti tradizionali di cucina e questo è un servizio che noi vogliamo offrire e lanciare sul pubblico. Questo non è un format di tipo franchising, noi vogliamo essere vicini ai gestori dei locali, ma lasciare la loro identità. Abbiamo presentato una ricetta semplice ma originale anche internazionale che è il polpo col gazpacho, che è per un aperitivo gustoso, semplice, in abbinamento alla birra. Poi c'è il classico della piccagna per esempio, sulla carne che è straordinario in abbinamento alla birra e poi il tradizionale volo alla birra dove non si sbaglia certamente.